Alberto Amodeo di Abbiategrasso vince la medaglia d'argento nei 100 metri stile libero S8 alle Paralimpiadi di Tokyo. L'atleta non partiva fra i favoriti ma è stato autore di una prodigiosa seconda frazione di gara, arrivando a giocarsi anche la vittoria alle ultime bracciate con il russo Nikolaev, che ha chiuso davanti a lui per pochi decimi di secondo. Amodeo ha chiuso con 4 minuti 25 secondi e 16. Sale quindi a 3 il bottino di medaglie conquistate dagli atleti abbiatensi ai giochi di Tokyo con la sorpresa Amodeo. Ci sono infatti le due medaglie, una d'oro ed una d'argento, conquistate dal cassinettese Simone Barlam. Il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai si è complimentato ufficialmente con Amodeo. I miei complimenti ad Alberto e agli altri nostri atleti che in questi giorni stanno ottenendo importanti vittorie ai giochi olimpici, regalandoci momenti indimenticabili di grande emozione. Sono un orgoglio per tutti noi. In festa anche Corbetta, dove Amodeo ha frequentato le scuole medie dell'Istituto San Girolamo dal 2011 al 2014. La scuola, in una nota, partecipa alla sua gioia straripante, a quella della sua famiglia, della sua città e del meraviglioso gruppo, che sta egregiamente rappresentando l'Italia in Giappone.